Come registrare un'intervista podcast a distanza? Cari amici e cari amiche, ciao! Questa devo dire che è una delle domande che ricevo più frequentemente. E sì, perché registrare un'intervista da lontano è una cosa facile se sai come farlo. E allora ecco che vengo in vostro aiuto e con questo mega tutorial vi vado a spiegare esattamente quali sono tutti i metodi o almeno i migliori sulla base delle vostre esigenze per registrare il vostro podcast con un interlocutore che sia il vostro compagno di podcast o che sia un intervistato a distanza. E allora andiamo un po' a vedere che cosa impareremo in questo tutorial. Impareremo a registrare un'intervista a distanza così come la voce del nostro co-host eventualmente. Impareremo a fare per entrambi una registrazione in locale alla massima qualità o perlomeno una registrazione di backup se non dovesse funzionare quella tramite VoIP, tramite Skype o quello che è. Impareremo a tenere le due tracce separate in modo da poterle poi editare individualmente, sistemare i volumi, correggere errori e fare tutto quello che ci pare. Impareremo se ne abbiamo il desiderio e il bisogno a registrare anche il video e impareremo in caso di emergenza o nel caso in cui il nostro interlocutore non abbia altre alternative a registrare delle interviste telefoniche. Questo e non solo all'interno del tutorial di oggi. Cosa dovete già conoscere? Beh, dovete già sapere come si fa un podcast perché non lo approfondiremo e dovete sapere come si gestisce un'intervista. A questo proposito vi linkerò poi sia il podcast Passione Podcast, se volete imparare a fare un podcast, che è la puntata nello specifico sulle interviste che potete andare a guardare nelle note di questo episodio. Dovete già conoscere come si usa Audacity oppure un altro software di editing audio perché non approfondiremo questo aspetto, anche qui vi linkerò poi tutti i riferimenti per imparare nella descrizione del video. così come dovete già conoscere come si usa OBS Studio solo se volete utilizzare l'ultimo metodo di quelli che vi farò vedere. Per tutti gli altri non ne avete bisogno. Vi ricordo assolutamente rigorosamente di leggere la descrizione del video perché li metto tutte le correzioni, gli aggiornamenti, eventuali altri video su questo argomento, eventuali segnalazioni che mi farete voi. qualsiasi cosa la metto lì dentro. Quindi mettete un attimo in pausa, andate prima a leggere la descrizione per essere sicuri che sia tutto aggiornato e che sia tutto chiaro e poi proseguite con la visione del video. Ultima cosa che vi dico, Chiocciolina Ciraolo, il canale Telegram per conoscere extra, backstage, informazioni e risorse aggiuntive, così come officine.me.supporta per diventare finanziatori, finanziatrici e beccarvi gruppo riservato, citazione sul sito, backstage riservato, il materiale dei tutorial e molto molto altro. Direi bando alle ciance, adesso è davvero ora di iniziare a guardare tutti i metodi uno per uno. Ma non faremo questo viaggio da soli perché siamo in compagnia di un aiutante, di qualcuno che ci aiuterà a fare dei test, a provare le varie applicazioni. Signori, Simone, capo Geek. Ciao Simone, grazie. Ciao, grazie a te per questo esperimento. Eccoti qua. Allora, Simone, ti troviamo col tuo podcast Esperienze Digitali, esperienzedigitali.info, se ti vogliono venire a cercare, vedere un po' di che pasta sei fatto. Con te adesso testeremo i vari metodi, i vari software, le varie cose che possiamo fare per registrare un'intervista a distanza. Tu sei pronto? Prontissimo. Allora, io direi come prima cosa, il primo ragionamento che dobbiamo fare è capire quali software possiamo usare per registrare un'intervista a distanza. Perché abbiamo capito che non è semplice, abbiamo capito che servono dei software specifici, allora andiamo a vedere quelli che sono i principali. Tranquilli, non sono molti, o meglio, sono moltissimi, ma vedremo soltanto quelli più importanti. Ne vediamo tre, ne abbiamo selezionati tre con Simone che sono quelli principali. Dopodiché, sbizzarritevi pure voi sulla base di quelle che vi rendete conto essere le vostre esigenze. E allora andiamo a dare un'occhiata a i software che sono i più noti in questo ambito. Naturalmente abbiamo Skype come primo software che è anche quello che utilizzo io ed è quello che utilizzeremo nel corso di questo tutorial. Skype ha sicuramente almeno due punti a suo favore. Il primo punto a suo favore è che è estremamente diffuso e quindi quando vi troverete a dire a una persona che volete intervistare guarda installati Skype non avrete molti dubbi che almeno non sappia di che cosa si tratta. Nella maggior parte dei casi ce l'hanno già, in alcuni casi vi diranno ah cavoli ma non mi ricordo più il nome utente, la password, in quel caso lì, vabbè, dovranno sopportare questo piccolo disagio ma niente di insopportabile. Quindi Skype, primo vantaggio, la diffusione. Secondo vantaggio è che ha una funzionalità che si chiama NDI e vedremo verso la fine di questo tutorial quanto è prezioso in alcune situazioni. Un altro vantaggio, devo dire, di Skype è che è piuttosto solido, è piuttosto robusto, è difficile che si rompa, è difficile che non funzioni, bene o male l'intervista ve la portate a casa. C'è da dire che uno svantaggio di Skype è che la qualità della chiamata in sé non è delle migliori, probabilmente non è il software dalla qualità migliore e ha una caratteristica che purtroppo è molto diffusa in questi software ovvero quella di essere half duplex e non full duplex. Che cosa vuol dire essere half duplex? Vuol dire che non è possibile con Skype parlarsi contemporaneamente ovvero non si può parlare tutti e due sullo stesso canale quindi cosa succede? Che di solito Skype mantiene soltanto la voce di quello che parla più forte ed elimina la voce dell'altro a differenza dei sistemi full duplex che invece ci danno la possibilità anche di accavallare le voci. In alcuni casi questo è un problema da niente perché non abbiamo l'esigenza di fare accavallare due voci ma in alcuni casi magari quando vogliamo fare una chiacchierata che sia un po' spontanea in cui naturalmente ci si accavalla ci si interrompe, ci si parla in alcuni momenti ovviamente uno sull'altro beh questa potrebbe essere una cosa che fa la differenza quindi quello che dovete cercare se volete un sistema che vi permette l'accavallamento è un sistema di chiamata full duplex. Il secondo software che vediamo è un software discretamente emergente ma ormai già estremamente utilizzato soprattutto nel mondo del gaming ed è Discord infatti come vedete il claim è proprio è ora di dire addio a Skype effettivamente Discord devo dire che da un punto di vista di qualità ma anche poi di esperienza d'uso è un software molto molto buono ve lo consiglio purtroppo non ha NDI per cui io personalmente non lo utilizzo ma so che è utilizzato da molti podcaster per effettuare le proprie chiamate anche con soddisfazione ancora di più è usato dai gamer che lo usano per comunicare durante le partite mentre giocano eccetera 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 l'ultima applicazione che vi voglio suggerire si chiama Zoom la trovate su zoom.as ed è fondamentalmente una forma di Skype diciamo con delle funzionalità un po' avanzate quelli che lo usano i suoi sostenitori dicono dalla qualità migliore di Skype effettivamente io l'ho provato in alcune situazioni anche con poca connessione e devo dire che ha funzionato molto bene per cui ve lo segnalo in modo che abbiate anche voi a disposizione eventualmente questa opzione direi che è terminata la panoramica dei software da utilizzare adesso vediamo un attimo che cosa possiamo fare per concretamente andare a registrare Simone tu sei pronto? Prontissimo siamo qui e allora adesso andiamo a vedere prima di cominciare un trucchetto che vi potrebbe salvare la vita in diverse occasioni sempre far registrare una traccia locale di backup al vostro ospite registrare una traccia di backup è un'abitudine che dovremmo sempre avere bisognerebbe sempre registrare almeno più di un file perché in questa maniera se si dovesse perdere la registrazione principale abbiamo sempre anche quelle di scorta ma a maggior ragione quando andiamo a registrare online con un'altra persona e quindi quando possiamo poi dover affrontare problemi di connessione lag di Skype problemi alla chiamata beh avere una traccia in locale dell'ospite ci potrebbe permettere se tutto va per il verso giusto ci potrebbe permettere di avere una traccia pulita alla qualità massima che poi noi possiamo andare successivamente con un software tipo Audacity a sostituire a quella originale che abbiamo registrato tramite Skype e allora andiamo a vedere come facciamo sempre facendola semplice ricordatevi che il nostro ospite potrebbe essere un ospite totalmente incompetente di tecnologia per cui facendola semplice andiamo a vedere come facciamo ad aiutarlo o aiutarla a registrare una traccia in locale partiamo da Windows noi quello che dobbiamo chiedere di fare al nostro ospite è andare a cliccare sul tasto Windows e quindi scrivere semplicemente registratore vedete che io ho scritto registra e già Windows mi dà un consiglio cliccando sul registratore vocale queste sono le indicazioni che dovrete dare all'ospite lo ribadisco l'ospite si trova un software una schermata diciamo più che semplice dove basta cliccare questo grosso bottone per iniziare a registrare ed ecco qua che in questo caso il nostro ospite ipotetico sta registrando la propria voce gli dite basta non fare più niente lascia tutto lì e poi quando abbiamo finito l'intervista clicchi su stop e avete una traccia di backup o eventualmente addirittura principale con la sua voce bella pulita vedete che adesso mi fa vedere il software proprio che io sto registrando abbiamo fatto anche interrompiamo la registrazione di backup vedete che si trova qui come file è possibile poi riascoltarlo che è quello che stiamo facendo ma adesso non ci interessa oppure è possibile ovviamente condividerla esportarla eccetera eccetera molto facile da usare niente paura vediamo anche il tasto condividi ecco che ci proporrà con chi vogliamo condividerlo possiamo farlo via posta possiamo chiedere di farlo via posta oppure andiamo a vedere se riusciamo a trovare dove è stato salvato il file eccolo qua apri percorso file quindi tre pallini in basso a destra apri percorso file e il nostro ospite troverà eccolo qua la registrazione da mandarci con WeTransfer Telegram posta quello che ci pare e ci piace facilissimo come vedete per Macintosh per il sistema Mac abbiamo fatto proprio adesso una prova con Simone si va sul launchpad si cercano le memo vocali e poi c'è un tasto rosso da schiacciare per iniziare a registrare e anche in questo caso va liscissimo super mega facile per cui anche da questo punto di vista nessun problema ma attenzione altro trucco e questo ancora una volta mi ha salvato la vita in diverse situazioni potete sempre chiedere di registrare la propria voce al vostro ospite con lo smartphone ovvero se voi vi state sentendo col pc chiedetegli di registrare con lo smartphone se voi vi state sentendo con lo smartphone chiedetegli di registrare se ce l'ha a disposizione naturalmente col pc in questo caso ti chiedo proprio Simone quindi di prendere il tuo smartphone simuliamo una intervista vera e propria apriti le note vocali purtroppo ogni smartphone ha le note vocali in una posizione un po' diversa c'è l'iPhone che ha i memo vocali in questo caso Simone tu hai un telefono che telefono? allora il mio è un Pocophone della Xiaomi ok per cui tu hai uno Xiaomi con le note vocali da qualche parte in vista suppongo sì è di standard l'applicazione è standard ok e le hai cliccate e stai registrando la tua voce? adesso sto registrando la mia voce tra l'altro qui adesso ho notato che si può anche scegliere la qualità della della chiamata cioè della registrazione qualità standard per il momento però penso che si possa anche migliorare io quello che faccio di solito in questi casi quindi è proprio quello che stai facendo tu adesso ovvero io dico tienitelo vicino alla bocca come se stessi facendo una telefonata come se stessi mandando un messaggio è un pochino scomodo per l'ospite che magari se l'intervista è lunga deve stare un'ora con il telefono vicino alla bocca quindi in quel caso magari glielo fate appoggiare a costo di perdere un pochino di qualità nella chiamata però in generale questo metodo funziona attenzione non fate l'errore madornale che ho fatto io in alcune occasioni ovvero ricordate sempre all'ospite in questo caso di indossare le cuffie perché se non indosserà le cuffie nella registrazione dello smartphone si sentirà non soltanto la sua voce ma anche la vostra per cui non fate questo errore mi raccomando quindi direi trucco ninja con la registrazione di backup registrazione extra affrontato e adesso Simone tu puoi pur interrompere la tua registrazione di backup tanto ne abbiamo 28 mila di registrazione di backup e adesso andiamo a vedere finalmente come andare a registrare con i software che abbiamo a disposizione primo metodo per registrare le interviste a distanza quello basic quello più semplice quello anche dalla qualità magari non migliore in assoluto registriamo direttamente con Skype e si Skype per fortuna nelle ultime versioni ci permette di registrare direttamente con una sua funzionalità e allora andiamo a vedere come si fa come vedete ho messo giù con il buon Simone per farvi dare un'occhiata soltanto a quelle di base le più importanti impostazioni di Skype do per scontato che voi sappiate come si usa Skype non vi spiego tutto è un software molto semplice molto probabilmente sapete già usarlo l'unica impostazione che ci serve controllare la troviamo con i pallini in alto a destra e quindi andando su impostazioni di tutte queste impostazioni non ce ne interessa nessuna per adesso se non audio video le altre eventualmente ve le guardate ve le guardate per voi ma noi non interessano quindi andiamo su audio video ed ecco che andiamo a impostare prima di tutto la telecamera vedete che io sto usando quelle integrate nel mio pc io consiglio sempre di se è possibile se l'ospite lo gradisce di guardarsi sempre anche in video anche se si vuole registrare soltanto l'audio perché è molto più semplice gestire la comunicazione capire la situazione in cui si trova l'altra persona andiamo poi in basso e andiamo a selezionare il microfono con cui comunicheremo al nostro interlocutore così come gli altoparlanti da cui sentiremo la sua voce queste impostazioni sono importanti anche nella regolazione del volume vedete che io ho due volumi molto particolari settati in maniera raffinata che non vado a toccare perché ci ho messo un sacco a trovare i volumi corretti è molto importante quindi vi invito a fare alcune prove per essere sicuri e sicure di averlo impostato nella maniera corretta nella maggior parte dei casi non va a influire questa impostazione nella registrazione che farete quando invece andrà a influire dovete andare qui a metterci le mani in maniera particolare ve lo segnalo io non vi preoccupate per il momento fate in modo di sentire qualcuno dall'altra parte di Skype e fate in modo che l'altra persona vi senta mi raccomando una cosa importante se siete dei podcaster disabilitate questo flag regola automaticamente le impostazioni del microfono perché sennò Skype vi va a cambiare proprio le impostazioni di sistema del vostro microfono andandovelo a incasinare maledetto Skype quindi che sia sempre disabilitato sennò ve lo troverete sempre sballato sulla base di quello che decide Skype una volta che avete impostato tutto fate una chiamata di prova per essere sicuri e sicure voi di sentire bene Skype ma anche che dall'altra parte vi sentano bene ed è il motivo per cui ho regolato il mio microfono a un volume così basso perché se lo regolavo più alto l'altra persona mi sentiva gracchiante facciamo una chiamata di prova gratuita siamo pronti per chiamare finalmente il nostro Simone Capovic vi dico soltanto prima di chiamarlo che purtroppo su Windows Skype ha due versioni quindi dovete sempre assicurarvi di scaricarvi quella direttamente dal sito web e non quella disponibile nel Microsoft Store se non usate Windows non avete problemi quella che vi serve è quella che trovate su Skype.com andate a scaricarla direttamente da qua se l'avete già preinstallata sul vostro computer Windows probabilmente non è la versione giusta quindi dovete cancellarla e andare a installarvi questa perché le due versioni sono leggermente diverse nelle loro funzionalità quella che ci serve che ha tutte le funzionalità di cui abbiamo bisogno per fare delle belle interviste è quella che si scarica da Skype.com adesso sì dai siamo veramente pronti per chiamare Simone facciamolo subito clicchiamo sul suo contatto e clicchiamo quindi sulla telecamera qui in alto ecco che stiamo effettuando la chiamata e ecco che ci ha risposto ciao Simone scusa per l'attesa va bene va bene tutto grazie mille allora adesso siamo pronti a registrare una chiamata di Skype all'interno di Skype andiamo quindi nei tre pallini in basso a destra qui dove c'è il faccione di Simone bisogna andarci sopra col mouse perché se no non vediamo tutti i menu tutti i pulsanti che si possono cliccare quindi andiamo col mouse dentro Skype pallini in basso a destra altre opzioni e clicchiamo su avvia registrazione molto facile vedete che stiamo avviando la registrazione ed ecco che ci dice registrazione avviata ce ne accorgiamo perché qui sopra abbiamo questo messaggio attenzione che nel frattempo Simone ha ricevuto un altro messaggio in cui gli viene detto registrazione avviata da parte di Andrea dico bene Simone sì giusto mi dice Andrea sta registrando la chiamata perfetto questa cosa qua è importante saperla perché è meno male che è così Skype non ci permette di registrare le chiamate ad insaputa del nostro interlocutore per cui stiamo registrando tranquillamente la nostra chiamata nel frattempo potrebbe eventualmente farlo anche Simone se proprio vogliamo fare una doppia registrazione di super mega backup in questo caso non abbiamo motivo di farlo Simone prova pure a parlare allora prova a far anch'io la registrazione o tanto per vedere cosa ti esce a te è uguale credo che non vedrò niente io nella nella mia schermata perché sto già registrando io l'hai fatto? no perché non me lo dà ok perché la sto già registrando io direi che va bene così nel momento in cui abbiamo finito la registrazione con Skype basta cliccare su arresta registrazione registrazione effettuata adesso sta completando Skype vedete che c'era un messaggio terminata la registrazione dove ce l'andiamo a prendere per andarla a elaborare facciamo finta che adesso Simone l'abbiamo salutato l'abbiamo messo giù e tutto quanto e siamo pronti ad editare il podcast in questo caso Simone ti teniamo qua con noi ancora per un po' va bene andiamo a prendere la registrazione all'interno della chat con Simone la troviamo qui dove c'è questo fumetto se avessimo messo giù con Simone invece saremmo già automaticamente all'interno della chat quindi andiamo qui dove c'è il fumetto in basso ed ecco che vedete che abbiamo proprio il video registrato andiamo quindi sui pallini qui in basso a destra in alto a destra e lo salviamo con nome in questo caso gli diciamo che vogliamo metterlo sul desktop lo chiamiamo video va già bene così ed ecco che sul nostro desktop ci troveremo scaricato il video diamogli tempo ecco qua il download dovrebbe essere terminato sì vediamo anche l'anteprima apriamo il video ripeto ha registrato un video non registra solo l'audio Skype ci registra sia uno che l'altro andiamo ad aprire il video e vediamo come è venuto perfetto direi che il video è venuto benissimo vi faccio notare che la registrazione di questo video non è di qualità eccelsa è una qualità decisamente telefonica ad essere generosi per cui se vogliamo fare le cose in alta qualità la registrazione automatica di Skype non è la forma giusta potrebbe essere la forma giusta se vogliamo un'ulteriore registrazione di backup se non sappiamo che pesci prendere abbiamo fretta di fare un'intervista allora in questi casi può andare utilizziamola ma di norma direi che non è di sicuro la soluzione di maggiore qualità che cosa facciamo allora per poter editare questo file beh andiamo su Audacity o su qualsiasi altro software di editing audio e ci trasciniamo il video al suo interno se avete seguito il mio corso su Audacity sapete già come si fa questa cosa anzi seguitelo è disponibile per i patrons in modo che siate super ninja sull'uso di Audacity andiamo quindi a trascinarla qui dentro ed ecco che abbiamo la traccia audio su cui possiamo lavorare vi faccio notare che la traccia è una traccia a mono per cui entrambe le voci sono sullo stesso canale sulla stessa traccia purtroppo in questo caso non abbiamo non abbiamo modo di fare diversamente dobbiamo lavorare sui volumi come abbiamo visto prima della chiamata in ogni caso abbiamo a disposizione ecco qua che abbiamo a disposizione una traccia già come ci serve direi che come primo metodo possiamo ritenerci soddisfatti e adesso però andiamo a vedere dei software che ci permettono di registrare Skype in maniera un pochino più professionale con un pochino più di qualità ci vediamo tra un attimo andiamo a vedere adesso un paio di software che ci permettono di registrare Skype in maniera invece un pochino più professionale un pochino di maggiore qualità e in particolare vi consiglio due fra i tantissimi che avete a disposizione ce ne sono veramente migliaia e in linea di massima hanno tutte le stesse caratteristiche quindi non trovo motivo per sceglierne uno piuttosto che un altro io ve ne suggerisco uno per Windows e uno per Mac quello per Windows che io ho usato per tanto tempo si chiama Eva Air lo trovate su eva Air punto com e adesso vedremo come si usa non è un software gratuito meglio c'è una versione gratuita con molte limitazioni dopodiché c'è la versione a pagamento che costa 20 o 30 dollari in base all'utilizzo che ne fate direi che sono delle piccole cifre che però vale la pena spendere se vogliamo fare le cose sul serio perché diversamente tanto vale usare la registrazione di Skype quindi Eva Air la prima opzione Windows mentre l'opzione per Mac direi che la più nota in questo ambito almeno quella che io ho sentito più spesso si chiama ecam.com ecam call recorder quello che dovete cercare è il call recorder c'è anche ecam live che vi permette di registrare il video di andare in streaming di fare tutta una serie di cose oppure ecam call recorder è la versione basic quella che vi permette di fare giusto la registrazione della chiamata anche in questo caso ha un costo 40 dollari la versione completa se no c'è anche una versione di prova che potete eventualmente utilizzare e allora ecco qua di nuovo il nostro Simone andiamo a fare una prova di Eva Air Simone sei ancora dei nostri vero? certo sono sempre qua ho aperto Eva Air fate conto che in questo caso praticamente quello che vedete nel momento in cui lo installate perché lo ho installato nuovo io ho la versione a pagamento ma non ho installato quella sto usando quella gratuita in modo da farvi vedere quello che vedreste nel momento in cui ve lo installate fresco fresco non c'è molto da dire perché sono software di una semplicità disarmante andiamo soltanto per sicurezza a dare un'occhiata che intanto le barre verdi si illuminino di verde nel momento in cui parliamo noi quella superiore e in cui parla l'interlocutore e quella inferiore vai Simone giustamente altrimenti è inutile registrare se non si sente niente perfetto sta funzionando vi faccio notare che Eva Air registra anche il video se ci interessa per cui andiamo a dare un'occhiata velocemente alle opzioni che troviamo in strumenti opzioni possiamo avviare Eva Air quando si avvia Windows forse non c'è motivo di farlo ma possiamo avviarlo quando si avvia Skype e questo può essere molto utile la maggior parte di questi software si lanciano da soli quando iniziamo una chiamata cosa preziosissima perché la cosa più tipica che esiste quando si registra un'intervista è dimenticarsi di registrare per cui bene che parta da solo per il resto le opzioni vanno già tutte bene così per cui non clicchiamo su nulla poi ve le guardate voi se volete fare qualcosa di diverso impostazione di registrazione qui ci sono delle cose che ci interessano perché gli possiamo dire come registrare le chiamate se automaticamente o manualmente noi le vogliamo registrare automaticamente e possiamo dirgli come registrare il video la qualità del video non approfondiamo perché qui ci interessa soprattutto l'audio in questo momento perché poi per registrare il video useremo delle funzionalità pro lo faremo con un altro software in ogni caso voi sapete che con evaer avete la possibilità eventualmente di registrare anche il video naturalmente potete registrare i video separati potete registrare un unico video dove entrambe le immagini sono una di fianco all'altra oppure come vogliamo fare in questo caso niente video perché registriamo soltanto l'audio mi raccomando scegliete l'impostazione che fa per voi modalità di registrazione audio vogliamo registrare entrambe le parti o magari vogliamo registrare soltanto la parte remota quindi soltanto Simone perché la mia voce la registro con un altro software oppure vogliamo registrare solo la mia per qualche motivo perché Simone magari registrerà la sua con un altro software beh lo decidiamo qua audio settings questo qua io di solito lascio capture from audio devices ma se ci fossero dei problemi nel catturare direttamente dagli audio devices andate a cliccare cattura direttamente da Skype naturalmente prima di fare l'intervista della vita farete delle prove suppongo per cui in questo caso facciamo che non siamo riusciti a catturare direttamente dai microfoni e allora andiamo a prenderla da Skype la chiamata la registrazione avanzate qui attenzione perché è molto importante questo punto perché c'è l'unica impostazione che è fondamentale andare a cambiare ed è registra audio in modalità stereo perché quello che vogliamo ottenere è ottenere delle tracce separate quindi registrando l'audio in modalità stereo noi avremo la mia voce facciamo finta a destra non mi ricordo quale lato è e la voce di Simone a sinistra poi le andiamo a separare diversamente otterremmo come con la registrazione precedente quella di Skype un'unica traccia con entrambe le voci quindi andiamo a registrare in stereo non direi che ci sono altre cose che dobbiamo andare a controllare in questo momento e applichiamo vedete che Evaer non sta registrando adesso andiamo a mettere giù con Simone lo richiamiamo e vediamo se Evaer come ci ha promesso come ci ha detto che avrebbe fatto riparte in automatico Simone ti richiamo va bene simuliamo una chiamata vediamo come si comporta il nostro Evaer vedete che qui mettendo giù vediamo già la registrazione di Skype Simone ci ha risposto ciao Simone sono ancora qui sono ancora qui ed Evaer sta effettivamente registrando come ci ha promesso stiamo registrando assolutamente vai ancora un po' con la tua voce ah ok no è molto interessante come modo che parte in automatico perché sicuramente c'è sempre quella volta che tu fai sei convinto di aver registrato in realtà non ti sei dimenticato di schiacciare quel tastino rosso allora ragazzi e ragazze se non potete dire di essere dei podcaster se non avete mai fatto un'intervista che è andata a buca perché non c'è podcaster a cui non sia successa l'intervista andata a buca perché abbiamo dimenticato di registrare e allora direi di interrompere Evair naturalmente quando io metto giù con Simone Evair si interrompe da sola adesso non facciamolo per gentilezza nei confronti di Simone per non metterlo sempre su e giù e interrompiamo manualmente Evair anche perché magari termina un'intervista e noi vogliamo effettivamente fermare la registrazione prima di salutare l'ospite un'accortezza quando registrate l'ospite con strumenti come Evair per cui l'ospite potrebbe essere inconsapevole di essere registrato perché adesso Skype non ti sta avvisando giusto Simone? Giusto giusto tu non sai di essere registrato in questo momento? non c'è niente che mi dice che stai registrando perfetto e abbiate l'accortezza di rendere sempre esplicito all'ospite il momento in cui iniziate il momento in cui terminate la registrazione perché se no magari all'ospite non interessa ma non è di sicuro un bel gesto per cui quando terminate l'intervista interrompete la registrazione dite al vostro ospite allora Simone abbiamo finito di registrare adesso puoi anche dire le parolacce ti puoi mettere le dita nel naso ci possiamo salutare tranquilli ok? perché fa la differenza andiamo a vedere ora che abbiamo registrato con Evair dove ci prendiamo la nostra registrazione vedete che lui ci dice abbiamo registrato un video di 0 minuti perché gli abbiamo detto non registrare il video e un audio di 1 minuto e 44 andiamo a cliccarci sopra tasto destro e lo apriamo e voilà niente di più facile nel caso in cui ve lo stiate chiedendo lo trovate nel vostro account in documenti Evair e qui ci sono le registrazioni il video non ci serve l'audio ci serve indovinate un po' cosa dobbiamo fare vediamo se avete intuito eh sì avete indovinato lo dobbiamo prendere e trascinare dentro Audacity e voilà questa volta fatemi ingrandire Audacity questa volta abbiamo due tracce abbiamo lato sinistro la mia voce abbiamo lato destro la voce di Simone ahimè come vedete non è sempre precisissimo nei volumi adesso dovremo regolare noi ancora corso su Audacity disponibile ai supporters dobbiamo regolarci noi tutti i volumi farlo perfettamente e come sapete se avete seguito il corso possiamo andare a separare la traccia sinistra e quella a destra andando direttamente qui in alto a destra nel menu della traccia e dicendogli che vogliamo dividere la traccia stereo in mono cioè vogliamo rendere un'unica traccia stereo perché se no la gente poi sente la mia voce a sinistra e quella di Simone a destra vogliamo andare a dividerla e farla diventare mono quindi clicchiamo qua ed ecco che adesso abbiamo le due tracce intese come due tracce mono si sentiranno entrambi in entrambi i canali sinistra e destra e le possiamo soprattutto cosa più importante andare ad editare separatamente quindi possiamo lavorare sul guadagno se preferiamo in questo caso fare una roba del genere ma molto meglio andare a lavorare su compressione normalizzazione equalizzazione in tutte queste funzionalità però di audacity che abbiamo già detto diamo per scontato che in linea di massima state padroneggiando la stessa cosa in linea di massima rispetto a quello che vi ho descritto funziona con ecam call recorder Simone ti risulta che bene o male le cose sono più o meno come le ho descritte giusto? si sono anche più semplici secondo me su call recorder infatti ha solo tre tastini le impostazioni il rack stop e una lente di ingrandimento che una volta finita la chiamata si clicca sopra e ti dà già le due tracce da esportare direttamente in mp3 ottimo ottimo quindi direi semplicissimo non ve lo posso far vedere perché non ho windows e direi che non vale neanche la pena di metterci magari a farvi vedere lo schermo di Simone perché comunque come ha detto lui è veramente semplice da fare per cui direi di passare al metodo successivo abbiamo cambiato idea abbiamo cambiato idea visto che stiamo facendo un tutorialone mega super completo abbiamo deciso di farvi vedere comunque come funziona i cam call recorder e allora ci siamo spostati eccoci qua sullo schermo di Simone per vedere come funziona Simone abbiamo aperto Skype ovviamente faccelo vedere te l'ho fatto abbassare ma effettivamente ci serve Skype allora eccolo qua ok quindi abbiamo aperto Skype vedete lì dentro il mio faccione e vedete che di fianco Simone ha aperto i cam call recorder vedete che è una finestrella super mega piccolina che dobbiamo fare adesso allora questo parte già in automatico a registrare ogni volta che parte una chiamata e si chiude ogni volta che si chiude la chiamata perfetto ha tre semplici tasti uno sono le impostazioni che anche qui possiamo scegliere il tipo di compressione se vogliamo fare il video possiamo decidere se registrare solo il locale il remoto con split screen tutte le varie impostazioni che più o meno sono uguali e il classico tasto REC STOP se si vuole interrompere prima della chiusura in più c'è questo tastino piccolo dove si possono mettere i marcatori ad esempio non so metto qualcosa per dopo ritrovarli quando dobbiamo andare proprio in quel punto della registrazione una volta finita la registrazione adesso io lo spengo manualmente basta andare sulla lente di ingrandimento ci apre questa nuova finestra e ci dà già le due tracce separate ok quindi sono due file separati si perfetto lui adesso te li dà il file ancora intero per estrarli separatamente basta cliccare su export split track scegliere il formato mp3 wave e schiacciare exporta e lui te li esporta con due tracce differenti perfetto direi molto molto semplice c'è qualche altra cosa da aggiungere su questo software altrettanto semplice che talmente semplice che è facilissimo da usare c'è solo due tasti praticamente da utilizzare ok davvero non vi potete sbagliare grazie Simone vediamo adesso un piccolo trucchetto avanzato che riguarda skype perché magari a volte il nostro ospite non ha a disposizione skype e dobbiamo procedere con il telefono come si fa in questo caso ma come ci comportiamo se il nostro ospite non ha proprio accesso a nessun tipo di software di registrazione e la nostra unica possibilità è fare una telefonata beh è un'evenienza da tenere sempre in considerazione perché molte volte la telefonata potrebbe essere anche la soluzione di scorta a me è capitato in alcune situazioni di fare un'intervista poi la connessione internet della persona che stavo intervistando improvvisamente si è interrotta e allora abbiamo dovuto ripiegare per il proseguimento dell'intervista verso una telefonata esistono alcuni modi per registrare le telefonate direttamente da smartphone ma devo dire che nella maggior parte dei casi non sono efficaci soprattutto se il nostro obiettivo è ottenere una registrazione di alta qualità ho cercato per settimane delle applicazioni che permettessero di registrare le chiamate ad una qualità decente non ne ho trovate e anzi nella maggior parte dei casi non funziona proprio neanche la registrazione in ogni caso se la trovate tanto meglio alcuni gestori android hanno già a disposizione la registrazione delle chiamate per esempio mi viene in mente proprio Xiaomi che permette di farlo già di default ma nella maggior parte dei casi questa cosa qua non è fattibile e comunque registrare direttamente da smartphone non ci dà la qualità che ci darebbe a disposizione il nostro il nostro computer e allora andiamo a vedere che soluzione abbiamo a disposizione col computer perché quello che consiglio di fare è di avere sempre a disposizione di scorta un pochino di credito Skype per le emergenze se noi andiamo a cliccare proprio qui sul credito Skype ecco che vediamo quanto credito abbiamo a disposizione per effettuare delle chiamate possiamo andare ad aggiungere il credito oppure possiamo anche fare degli abbonamenti vedete i telefoni fissi illimitati parliamo di telefoni fissi siamo a poco più di 3 dollari al mese qualcosina in più per le chiamate verso i cellulari magari con dei limiti allora in base a quanto lo usiamo e in base alla durata che pensiamo che abbia la telefonata che dobbiamo fare possiamo andare tranquillamente a inserire del credito oppure a fare un abbonamento io di solito dico se la chiamata dura più di un'ora forse si fa prima a fare un abbonamento e poi a disdirlo piuttosto che usare il credito Skype ma questa verifica fatela voi nel momento in cui voi cliccate su aggiungi credito Skype Skype se avete già il pagamento effettuato vi permette di prendere avete già la modalità di pagamento impostata Skype vi permette direttamente di acquistare il credito diversamente se non l'avete già impostato dovrete andare magari sul sito web andare a impostare tutte le cose e quindi potete prendervi il credito con il credito Skype impostato e attivo possiamo fare delle normalissime telefonate tramite Skype a cellulari e telefoni fissi e registrare le telefonate esattamente con i metodi che abbiamo visto fino adesso proviamo a fare una telefonata al buon Simone quindi la possiamo fare cliccando su chiamate oppure direttamente qui in alto a destra chiudiamo questo avviso direttamente qui in alto a destra vedete che abbiamo il tastierino numerico a disposizione vado ad oscurare un attimo Skype in modo da poter mettere il numero di Simone senza ledere la sua privacy vediamo se riesco a inserirlo ecco qua che ce l'ho già in memoria e andiamo a chiamare Simone che riceverà la sua chiamata come una normalissima chiamata telefonica pronto? ed eccolo qua Simone ciao eccoci ciao sempre io allora Simone tu ci stai sentendo e per te quello che stai ascoltando è una normalissima chiamata telefonica devo dico bene? sì ho risposto al telefono normalmente perfetto tu stai parlando al telefono normalmente tu non sai che io ti sto chiamando con Skype giusto? no ho visto un numero non in rubrica ovviamente però non so se effettivamente è un numero di telefono o un numero di Skype tu hai visto il mio numero di telefono era un 334? sì e allora è il mio normalissimo numero di telefono che ho impostato all'interno di Skype e Skype quando chiama lo mostra come nostro numero di telefono per cui per te tu hai ricevuto una chiamata esattamente dal mio numero di telefono faccio notare voi adesso non vedete l'interfaccia aspettate vi sposto un pochino questo così vi faccio notare che se io vado adesso sui pallini in basso a destra purtroppo non ho la possibilità di andare a registrare direttamente con Skype per cui dovrò necessariamente per registrare usare uno degli altri metodi che abbiamo visto finora quindi ahimè questa cosa qua non è fattibile direttamente tramite Skype però direi che per qualsiasi tipo di emergenza di problema di evenienza in questa maniera voi vi portate a casa la vostra intervista telefonica senza nessun problema giusto Simone? giustissimo perfetto perfetto e allora io ti saluto e noi ci diamo appuntamento col prossimo metodo va bene a dopo andando avanti nel nostro viaggio nel mondo della registrazione delle interviste andiamo verso i software diciamo professionali che hanno lo scopo di semplificarci un pochino la vita proprio nella realizzazione di queste registrazioni e allora vi voglio far vedere come funziona Zencaster che è un software molto noto tra i podcaster e che ha la caratteristica di permetterci tramite il browser di registrare direttamente la nostra traccia la traccia del nostro interlocutore anche più di uno di farle tutte in locale queste registrazioni quindi registrerà la mia traccia sul mio computer quella del mio ospite sul suo computer per poi inviarmi le tracce di tutti i miei ospiti in modo che io possa elaborarle all'interno del mio software quindi tutte le tracce in locale nessun lag nessuna perdita di qualità qualità molto alta tutto questo è possibile grazie a Zencaster e grazie alle alternative a Zencaster che bene o male fanno le stesse cose naturalmente questi software non sono gratuiti sono tutti a pagamento ci sono delle versioni gratuite con delle limitazioni adesso proveremo la versione gratuita di Zencaster e hanno in linea di massima un abbonamento che si aggira intorno ai 20 dollari al mese Zencaster è quella che vedremo fra poco le alternative a Zencaster sono ringer quindi ringer.com non vi vado a dire che cosa cambia fra una e l'altra perché bene o male fanno le stesse cose il consiglio che vi do è provatevi la trial e vedete quale fa il caso vostro e poi vi segnalo squadcast squadcast.fm anche in questo caso bene o male stesse cose stessi costi devo dire che questa è un'applicazione che mi riservo di testare un po' approfonditamente perché mi sembra avere delle buone potenzialità andando all'interno dell'interfaccia di Zencast Zencaster.com vi ricordo ci chiede se vogliamo ricevere le notifiche direi che in questo caso uno dei rari casi in cui acconsento alla ricezione delle notifiche togliamo un attimo il mio faccione per farvi vedere bene l'interfaccia in realtà è molto semplice utilizzarlo adesso noi vediamo che non abbiamo crediti di postproduzione non ci interessano l'abbiamo collegato al mio dropbox e ci dice quanto spazio abbiamo in locale in più vedete che mi sta facendo vedere le vecchie registrazioni andando ancora più in basso nelle impostazioni di recording usiamo il VoIP già integrato in Zencaster vedete che non c'è molto altro da andare a verificare se non creare un nuovo episodio create new episode diamogli un nome creiamolo non possiamo registrare in WAV perché questa è la versione gratuita di Zencaster mentre con la versione a pagamento potremmo registrare in WAV in questo caso registriamo solo in mp3 andiamo a creare quindi l'episodio Zencaster ci chiede la conferma che può utilizzare il nostro microfono naturalmente è necessario dirgli di sì se no non potrebbe registrare la nostra voce mi raccomando ricordate al vostro interlocutore che anche lui o lei deve acconsentire ed eccoci qua che stiamo registrando un episodio nel quale per il momento ci siamo soltanto noi per invitare qualcuno all'interno dell'episodio clicchiamo su invita e quindi prendiamo il link lo copiamo e lo mandiamo alla persona che vogliamo andare ad invitare andiamo nella chat con il buon Simone ciao Simone ti allego il link per partecipare all'intervista e gli incolliamo il link nel momento in cui Simone cliccherà su quel link noi ce lo troveremo aggiunto all'interno della nostra dashboard di Zen Caster vedete che è molto interessante come funziona perché abbiamo la possibilità di mutare noi stessi o altri ospiti in questo momento non staremmo registrando la nostra voce e la stessa cosa la possiamo fare con gli altri ecco che sta per arrivare Simone 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 vediamo quando ti sento prova a parlare sì sì ti sento anch'io perfetto ti sento ti sento molto basso in questo momento ma per adesso va bene così arrivo subito da te perché stavo dicendo che un'altra opzione che abbiamo è quella di alzare la mano ovvero se i nostri interlocutori vogliono chiederci la parola lo possono fare alzando la mano prova a alzare la manina Simone ecco che vedete che Simone mi ha chiesto la parola proprio in questo momento io posso anche abbassargli la mano perché sono il conduttore quindi posso avere questa così questo questo potere nelle mie mani quindi io da parte di Simone vedo tutta una serie di cose per essere sicuro che dalla sua parte tutto sia a posto vedo che ha un microfono un microfono sconosciuto che non è riuscito a riconoscere vedo che abbastanza storage per andare poi a registrare in locale per andare a salvare in locale il suo file audio ma vedo che c'è un problema perché vedo un warning andiamo a vedere qual è il problema di Simone vedete vedo che va tutto bene ad eccezione che l'accesso allo storage locale quindi l'accesso al suo hard disk ha qualche problemino devo dire che questo è un warning che Zencaster dà spesso per cui per il momento non preoccupiamocene e andiamo comunque a registrare l'intervista vedete che tutte le altre cose sono andate bene vedete che l'importante è che i critical checks vadano a buon fine i warning diciamo che sono delle cose su cui Zencaster ci dice attenzione perché potrebbe esserci un problema prima di registrare questa meravigliosa intervista con Simone andiamo a dare un'occhiata alle impostazioni e vediamo in questo caso che abbiamo la possibilità di selezionare il nostro microfono selezionare le cuffie da cui sentiamo selezionare eventualmente una uscita monitor di Zencaster così come andare a cancellare l'eco in maniera automatica lo fa Zencaster oppure a scegliere che VoIP vogliamo usare quindi se vogliamo usare direttamente Zencaster anche per parlarci o se invece Zencaster lo vogliamo usare solo per registrare e allora utilizziamo in questo caso Skype ed Engouts come metodo di comunicazione in questo caso noi lasciamo tutto così come è salviamo e andiamo quindi a registrare la nostra intervista clicchiamo su start recording ed eccoci qua che stiamo registrando un'intervista molto interessante vedete la forma d'onda che fa vedere che stiamo registrando la nostra voce abbiamo sempre sotto controllo qui in basso la situazione di Simone Simone parlaci un po' tu non conoscevo questo metodo per registrare mi sembra molto interessante è molto interessante perché adesso io riceverò due tracce audio in mp3 se registrassi con la versione pro le riceverei anche in uav separate con la mia voce registrata in locale e con la voce di Simone registrata sempre in locale prova un po' Simone allora alzo la manina hai alzato la mano vedete che la voce di Simone si sente un pochino bassa quindi in questo caso probabilmente dovremmo o trovare il modo di far alzare il volume del microfono a Simone oppure andare poi in post produzione ad alzare il volume della sua traccia il tuo volume del microfono è al massimo? è quasi al massimo si ok niente la tua traccia è leggermente più bassa della mia dovremmo lavorarci in post produzione forse adesso l'hai sistemato abbiamo dato un attimino il gain ottimo perfetto direi ecco adesso il tuo gain è molto migliore anche per me in effetti lo vedo perfetto anzi forse addirittura adesso sei più alto di me andiamo a vedere che cosa succede quando termina l'intervista andiamo a interrompere la registrazione e con Simone ho ancora la possibilità di comunicare giusto Simone? si ti sento ancora bene perfetto però adesso ecco qua mi dice fatto abbiamo già caricato tutte le tracce in questo caso ci ha messo molto poco perché le tracce erano di poco più di un minuto un'intervista di un'ora magari richiederà un pochino più tempo nell'elaborazione molto importante che nella fase dell'elaborazione voi dicete al vostro ospite di non muoversi cioè non deve chiudere il browser può anche interrompere la chiamata se vuole ma non deve assolutamente chiudere il browser perché Zencaster sta caricando su internet sul server la sua traccia registrata locale ok? ed ecco qua che io ho a disposizione le due tracce in mp3 registrate locali andiamo a cliccare su download la mia e la sua ecco qua che ho scaricato le due tracce andiamo a vederle eccole qua la prima Andrea Ciraulo e la seconda Simone Capomolla eccole qua possiamo naturalmente andare a importarle all'interno di Audacity vediamo se riesco a farlo una e due ovviamente le due tracce sono già sincronizzate non ci stanno creando nessun problema attenzione soltanto ve le faccio vedere bene attenzione soltanto che in alcuni casi potreste avere il problema del cosiddetto audio drift ovvero le due tracce sulla base di delle cose complicatissime che vi invito ad andarvi a trovare su wikipedia le due tracce potrebbero essere non perfettamente sincronizzate in quel caso lì sono dolori quindi registratevi anche in questo caso sempre una registrazione di backup e fate un po' di prove per capire se Zencaster e simili fanno al caso vostro o se invece potrebbe non essere la soluzione adatta perché soffrite di questo cosiddetto audio drift se fate delle prove e tutto funziona signori è esattamente quello che vi serve non so se riuscite a notare per esempio che qui in questo caso io vedete che una traccia è leggermente più lunga dell'altra questo potrebbe essere proprio un problema legato all'audio drift che bisogna andare o a sistemare in post produzione accorciando una traccia ma accorciando proprio anche velocizzando di qualche millisecondo la traccia per poterla accorciare oppure magari nel vostro caso questa cosa qua non succede assolutamente e siete a posto direi che questo è l'utilizzo di Zencaster mi sembra abbastanza intuitivo nel suo uso semplice da usare non dovete fare altro che provarlo e vedere se effettivamente è un metodo efficace per voi se per voi funziona in quel caso avete trovato la cosa perfetta perché fa veramente tutto lui al posto vostro direi che con Zencaster ci siamo e con i metodi simili ci siamo andiamo adesso a vedere l'ultimo metodo che è quello più complicato in assoluto ma che è anche quello che ci dà in assoluto più soddisfazioni dal punto di vista della qualità perché andiamo a giocare un pochino con OBS Studio e adesso il dolce lo abbiamo lasciato per ultimo alla fine parliamo di OBS Studio che è il software che uso io attualmente per registrare le mie interviste è quello che trovo essere più efficace ma bisogna dire la verità è anche quello un pochino più complicato rispetto agli altri prima di cominciare vi ricordo o meglio vi dico nel caso in cui non lo sappiate che ho creato una mega guida definitiva su OBS Studio ve la linko nelle note nella descrizione del video in modo che possiate andare a guardare prima di seguire questa parte se eventualmente non l'avete ancora seguita se invece bene o male sapete come funziona OBS e volete proseguire per capire come registrare la voce tramite Skype seguite quello che sto per dirvi perché dovremmo usare OBS rispetto agli altri metodi beh perché OBS ci permette di registrare intanto il video poi ci permette di registrare una qualità estremamente elevata inserendo dei plugin facendo tutta una serie di cose che ci permettono di migliorare la qualità audio della nostra chiamata e nel caso in cui ci possa essere utile ci permette anche di andare in streaming su YouTube o su Twitch naturalmente noi registriamo il video con OBS non solo OBS ci permette di registrare il video ma OBS ci obbliga a registrare il video noi possiamo poi così come abbiamo visto già prima andare a spostare questo video e buttarlo all'interno di Audacity in modo poi da elaborarne eventualmente soltanto l'audio quindi OBS è un software portentoso e gratuito e open source non ci richiede assolutamente nessuna spesa e davvero io non riesco a immaginare dei motivi oggi per non utilizzare OBS se non il fatto che effettivamente un pochino complicato è ecco qua ancora il nostro Simone Capomolla Capo Geek ciao Simo ancora ciao sono ancora qui sei ancora qui chi ti lascia ormai andiamo ad aprire il nostro OBS Studio se non l'avete mai visto né sentito nominare mi raccomando prima il tutorial su OBS e poi quello che vi sto facendo vedere adesso OBS abbiamo detto che è un software portentoso adesso ce lo andiamo a impostare molto velocemente per fare questa intervista ma prima di poterlo impostare dobbiamo andare a scaricare l'OBS se non ce l'abbiamo quindi obsproject.com lo scarichiamo ma diamo per scontato che ce l'avete già perché avete seguito la guida definitiva dopodiché una cosa fondamentale per poter fare questa cosa è installare il plugin NDI NDI Napoli Domodossola Imola andando a cercare OBS NDI su Google andiamo già in automatico a trovare il nostro plugin e quindi abbiamo subito la possibilità di scaricarlo dove lo troviamo il download andiamo a vedere eccolo qua download in alto a destra arriviamo sulla pagina di GitHub e quindi clicchiamo sul titolo no non era sul titolo vediamo dove lo troviamo eccolo qua qui sotto assets scaricatevi quello che fa per voi nel mio caso è Windows Installer nel vostro caso potrebbe essere macOS oppure una distribuzione Linux quindi ripeto riguardiamo tutto il percorso per essere sicuri di non sbagliare andiamo su Google clicchiamo OBS NDI clicchiamo sul plugin in alto a destra su download e quindi nella pagina del plugin scendiamo fino a trovare gli assets e andiamo a cliccare sul installer eccolo qua il nostro installer ci clicchiamo sopra in modo da installarlo se non lo andiamo a prendere nei download qui adesso Windows mi chiede di confermare per motivi di sicurezza gli dico di sì andiamo avanti accettiamo naturalmente andiamo avanti andiamo installarlo nella cartella di OBS studio andiamo avanti installiamo vedete che sono sempre andato avanti adesso lui lo sta scaricando lasciamoglielo fare magari interrumpiamo e ripartiamo quando lo avrà fatto no dai tanto ha praticamente terminato così vediamo tutto il processo ecco qua che l'installazione è terminata o meglio sta per terminare perfetto installazione terminata finish andiamo a prendere il nostro OBS questo non ci serve più andiamo a prendere il nostro OBS studio adesso e lo chiudiamo uscendo lo riapriamo diamogli il tempo di aprirsi adesso adesso ci chiede la conferma perché ci sono delle nuove funzionalità quindi il firewall potrebbe bloccare le funzionalità di NDI non è naturalmente quello che vogliamo consentiamo l'accesso adesso dovremmo trovare all'interno degli strumenti NDI settings perché finalmente abbiamo installato il plugin di NDI in questo caso non sono dei settaggi che ci servono particolarmente quindi per il momento annulliamo NDI pronto andiamo adesso sul nostro Skype e facciamo finta che voi non avete mai utilizzato NDI quindi che cosa dovete fare prima di effettuare una chiamata mettiamo giù e ti richiamo Simone va bene prima di effettuare una qualsiasi chiamata voi dovete andare nelle impostazioni del vostro Skype quindi andare in chiamate andare in avanzate e dovete consentire l'utilizzo di NDI che cos'è NDI fondamentalmente non ve l'ho ancora detto beh NDI è un sistema che permette a un computer di inviare dei flussi audio video da un software all'altro e addirittura da un computer all'altro pensate che quello che sto usando ora per registrare questo tutorial che ovviamente è registrato tutto con OBS Studio sto usando due computer tra i quali sto facendo scambiare le informazioni tramite NDI quindi una volta che abbiamo abilitato l'utilizzo di NDI torniamo indietro e chiamiamo il nostro interlocutore aspettiamo che ci risponda Simone ecco qua come vedete noi adesso abbiamo indicato qui in alto che NDI è in uso e dal punto di vista di Simone Skype lo sta avvisando che abbiamo attivato NDI e quindi gli sta dicendo attenzione il tuo interlocutore potrebbe registrare la chiamata dico bene Simone? giusto perfetto quindi nel momento in cui abbiamo impostato NDI su Skype lo abbiamo installato come plugin su OBS Simone è avvisato uomo avvisato mezzo salvato in realtà l'abbiamo registrato in tutte le salse Simone quindi non credo che non se lo possa aspettare torniamo sul nostro Skype e andiamo ad impostare NDI prova un pochino a parlare Simone allora questa cosa dell'NDI io avendo Mac non l'ho ancora provata però vedete che Simone ci viene già fuori come audio del desktop all'interno di OBS ci basterà abbassare un pochino il suo volume e già sentiamo la sua voce per andare non vi sto a fare la configurazione super mega avanzata delle scene perché quella ve la andate a pigliare nell'altro tutorial però giusto per avere le cose di base prendiamo questa scena numero uno andiamo ad aggiungere un dispositivo di cattura video comunque informo te Simone e coloro che ci stanno guardando che NDI funziona perfettamente anche su Mac andiamo a prendere un dispositivo di cattura video e andiamo a prendere la mia webcam a dove adesso non si vede assolutamente nulla perché non si vede assolutamente nulla perché ci sta guardando Simone la webcam può essere usata da un solo software per volta quindi se è importante registrare anche il video dobbiamo necessariamente correggere questa cosa diversamente siamo a posto e possiamo anche non registrare il nostro bel faccione andiamo a correggerlo mettiamo giù con l'interlocutore quindi Simone per l'ennesima volta ti metto giù va bene adesso andiamo a selezionare il dispositivo di cattura video vediamo di chiuderlo qua ok andiamo ad aprire OBS ecco qua che adesso il mio video si vede ora possiamo chiamare Simone adesso attenzione che sarà Simone a non vederci ecco ti qua Simone scommetto che tu non mi vedi no non ti vedo più vedo solo la mia faccia non mi vedi perché adesso la mia webcam è in uso da OBS Studio dopo aver aggiunto un dispositivo di cattura video andiamo ad aggiungere una fonte NDI andiamo a dargli un nome e andiamo a selezionare la fonte che gradiamo potrebbe essere per esempio Capo Geek clicchiamo quindi su ok ed ecco qua che vediamo il nostro bel Capo Geek qui pronto per fare il video mettiamoli uno di fianco all'altro in questa disposizione francamente a dir poco orribile ma non è questo lo scopo ne parleremo poi o meglio ve lo andate a guardare nell'altro tutorial e vi faccio notare che adesso abbiamo un'ulteriore fonte audio che è quella di NDI quindi abbiamo l'audio del desktop lo chiudiamo abbiamo l'audio della mia webcam lo chiudiamo e abbiamo l'audio del microfono così come l'audio di Simone provo un po' a parlare Simone è perfettamente sincronizzato e lo vedo molto bene ok che cosa vedi molto bene la mia faccia ok beh perfetto ok adesso un'ultima cosa che dobbiamo andare a fare nelle impostazioni andiamo in uscita no andiamo in uscita e andiamo a mettere le impostazioni avanzate e quindi ci assicuriamo di registrare tutte le tracce audio in questo caso ce ne basterebbero due ma noi le registriamo tutte quindi dalla 1 alla 6 registrazioni le selezioniamo tutte questa roba qua roba avanzata altro tutorial scusate se vado veloce ma non è questo lo scopo quindi andiamo in uscita mettiamo avanzate registrazione selezioniamo tutte le tracce audio dopodiché clicchiamo su ok e andiamo a cliccare con il tasto destro sulla rotellina di un audio e facciamo proprietà audio avanzate in questo caso andiamo a dirgli quale audio deve andare in quale traccia i primi due abbiamo detto che non li vogliamo proprio sulla faccia della terra quindi li eliminiamo e poi io di solito cosa faccio io metto nella traccia 1 entrambe le voci nella traccia 2 metto soltanto la mia e nella traccia 3 metto soltanto quella dell'interlocutore in questa maniera io riesco ad avere le nostre voci su tracce separate andiamo a chiudere andiamo a vedere se nelle impostazioni abbiamo già messo come formato di uscita uscita avanzate registrazione visto che non l'avevo fatto mkv non vi spiego il dettaglio sapete dove andare a guardarlo non vi spiego perché quindi registrato in mkv clicchiamo su ok e quindi andiamo ad avviare la registrazione potremmo anche andare in diretta ecco che stiamo registrando questa è la mia voce tu simone questa è la mia voce si sente bene ti sente molto bene andiamo a interrompere la registrazione e andiamo a vedere che cosa ci ha combinato il nostro OBS vediamo un po' dove c'è la messa credo che l'abbia messa in video eh sì eccolo qua vediamo come è venuto apriamolo sempre con VLC potremmo anche andare in diretta ecco che stiamo registrando questa è la mia voce tu simone ah questa è la mia voce si sente bene si sente perfettamente registrato naturalmente se vogliamo andare a elaborare le tracce soltanto audio e farlo separatamente ce lo importiamo all'interno di Audacity esattamente come abbiamo fatto con il video precedente vi faccio notare che avendo registrato in MKV adesso Audacity ci permette di scegliere quali tracce vogliamo importare se vi ricordate noi abbiamo registrato dalla 1 fino alla 3 quindi andiamo a selezionarle tenendo premuto il tasto maiuscolo andiamo a selezionare dalla 1 alla 3 e clicchiamo su ok ecco qua che le tre tracce sono state importate nella 1 ci siamo tutti nella 2 ci sono soltanto io nella 3 c'è soltanto Simone adesso la prima andiamo a cancellarla perché sennò sarebbe una ripetizione io mi vado ad editare queste due tracce separatamente e poi posso andare a utilizzarle con Audacity potremmo anche andare in diretta ecco che stiamo registrando questa è la mia voce tu Simone questa è la mia voce si sente bene? si sente bene nel momento in cui esporterò con Audacity esporterò un normalissimo file mp3 o voav o quello che mi pare piace vedete esporta come mp3 e sarà un normalissimo file devo dire che OBS Studio ci dà delle potenzialità che nessun altro software davvero ci mette a disposizione quindi se volete davvero fare il salto di qualità certo complicandovi forse un pochino la vita però andando a una qualità assolutamente massima risultato massimo OBS Studio è la vostra strada che ne dici lo proverai Simone? sicuramente io già lo utilizzo ecco lo proverai anche con NDI adesso si devo solo vederlo perché io adesso non vedo quello che tu stai facendo non stai vedendo il tutorial ovviamente sei dall'altra parte della telecamera e quindi direi che ci siamo vediamo se chiudiamo perfetto e ci vediamo fra poco con le indicazioni finali e saluti ed eccoci qua cari amici cari amiche siamo ancora con Simone Capomolla in arte Capo Geek per chiudere questo mega tutorial gigantesco su tutti i metodi possibili e immaginabili per fare delle interviste davvero non vi manca nulla abbiamo visto come fare le interviste a distanza e siamo qui apposta abbiamo visto come usare Skype come registrarle subito con Skype come farle se abbiamo un ospite un pochino incompetente come fare delle registrazioni in locale da parte dell'ospite di backup abbiamo visto come separare le due tracce come registrare anche il video come registrare la telefonata in caso di emergenza insomma davvero abbiamo visto tutte le opzioni possibili e immaginabili se avete qualcosa cosa da suggerire fatelo scrivetemi così lo aggiungo poi nella descrizione del video vi ricordo di andarvela a guardare così almeno siete sicuri di avere la versione aggiornata di qualsiasi metodo non ve la perdete perché magari lì ci ho aggiunto poi delle cose successivamente al momento della registrazione mi raccomando ditemi se avete delle ulteriori metodologie che utilizzate così come ditemi se avete avuto qualche problema nell'eseguirne qualcuna perché sono ben lieto di aiutarvi davvero super mega grazie a voi che avete seguito fin qui vi ricordo di venirmi a trovare sul canale telegram chiocciolina ciraolo per extra backstage informazioni consigli e risorse chi più ne ha più ne metta un super mega grazie alla cavia che ci è stato d'aiuto in questa bella guida Simone Capomolle in arte Capo Geek grazie davvero Simone grazie grazie a te è stato molto interessante e me lo riguarderò anche io molte volte questo tutorial grandissimo nel tuo caso vi ricordo di andarlo a pigliare su esperienzedigitali punto info per cui se siete anche voi un po' smanettoni un pochino nerd un pochino geek direi che il podcast di Simone è assolutamente il posto che fa per voi per cui andatevelo ad ascoltare sei già sei già arrivato a 100 puntate 110 sono arrivato 110 ciao per cui siamo proprio anche in questo caso una produzione assolutamente serrata così mi piace grande Simone è una maratona anche è una maratona anche è una maratona di otto ore ricordo bene è anche un'intervista sottoscritto che è la parte più importante assolutamente assolutamente certo e quindi andate a trovare anche Simone esperienzedigitali punto info davvero grazie e noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.